Sul referendum avete parlato di un totale fallimento di Marchionini e della sua giunta? Eh certo, è stato così, io di referendum e di fusione me ne intendo. È stata una sconfitta pesante, personale, perché secondo noi è stata gestita una campagna troppo con una donna sola, un sindaco solo al comando, avendo poco condiviso con la città e con la popolazione. Vi siete dati favorevoli alle frecce tricolori ma avete sottolineato i costi? No, naturalmente le frecce tricolori, ci mancherebbe una bellissima iniziativa e saremmo presenti anche noi. Quello che facciamo presente è che dove amministra la Lega, ad esempio Arona, dove c'è il nostro sindaco, c'è il deputato in carica, lì si fanno le frecce tricolori quest'anno a costo zero. Nel 2016 gli erano costate l'amministrazione comunale di Arona 3.500 euro. Le frecce tricolori a Verbagna, essendoci, non essendoci, probabilmente quel rapporto di collaborazione con i commercianti, con la parte produttiva della città, sono costate 50.000 euro. A Verbagna la Lega sta ripartendo anche in vista delle prossime elezioni. Stiamo ripartendo, abbiamo la sezione aperta, siamo presenti sul territorio, facciamo questo sabato il terzo gazebo di fila, intervisteremo i cittadini sul volere o meno del contratto con il Movimento 5 Stelle, e con il governo Lega 5 Stelle. Per le elezioni avete anticipato, presenterete un paio di candidati leghisti alla coalizione, due nomi sui quali discutere, ma tornerete anche presto in Consiglio Comunale. Ci stiamo lavorando, nelle prossime settimane vi faremo sapere e comunicheremo, mi auguro, l'entrata di nuovo della Lega in Consiglio Comunale, perché la Lega non può rimanere fuori dal Consiglio Comunale del Comune Calcoluogo.